Oggi è il giorno di ogni donna, di ogni ragazzo e ogni ragazza che hanno parlato a favore dei loro diritti. Migliaia di persone sono state uccise da terroristi e milioni sono state ferite. Io sono solo una di loro. Quindi sono qui oggi e rappresento un obiettivo tra i tanti. Non parlo per me stessa, ma per coloro che non hanno voce e che non possono essere ascoltati.